Siracusa, telefonini e droga nella casa circondareale di Cavadonna. Non c'è pace nelle carceri del Siracusano. Tiene destra l'attenzione al fenomeno della introduzione di cellulare nelle strutture penitenziarie con un ulteriore sequestro all'interno della casa circondareale di Cavadonna a Siracusa. Nel corso dei servizi di controllo gli agenti di polizia penitenziaria hanno eseguito non è discorso una perquisizione in celle di una sezione della struttura penitenziaria Siracusana e hanno rinvenuto nella disponibilità di alcuni detenuti e sequestrato complessivamente 18 telefonini di cui 10 mini e 8 smartphone con relativi carica batteria. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati anche diverse dosi di sostanze stupefacenti e alcuni USB. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta che si aggiunge alle altre in cui sono stati registrati fatti analoghi come quella dello scorso 14 aprile nel carcere di Augusta Bru Brucoli quando entravano droga e telefonini e a introdurli era un agente di polizia penitenziaria. Lo avevano scoperto gli stessi suoi colleghi. La Guardia di Finanza aveva quindi compiuto gli accertamenti per conto della direzione destettuale antimafia della Procura di Catania e il GIP aveva firmato l'ordinanza per 16 persone, 15 delle quali detenute e una finita ai domiciliari. Anche un agente della penitenziaria tra le persone arrestate, il suo intendente Michele Pedone, 51enne. In cambio di denaro si occupava di portare nel carcere la droga, i telefonini e le SIM per farle funzionare. Stando agli investigatori, l'uomo individuato anche grazie al contributo fornito dal gruppo di comando del carcere di Augusta godeva all'interno dell'istituto di connivenze e coperture sulle quali sono in corso ulteriori accertamenti. Un'altra degli arrestati, Giovanna Buda, 31 anni, si occupava di procurare all'esterno del carcere i telefonini, mentre a gestire traffico di droga e telefoni erano due detenuti, Dario Giuseppe Muntone, 35 anni, e Luciano Ricciardi, 31, che utilizzavano al loro volto i telefonini per far arrivare all'esterno del carcere le loro richieste e gestivano la cassa dell'organizzazione. In carcere entrava ogni tipo di droga, cocaina, marivana, asce, scank. Componente dell'organizzazione, che erano fuori dalla casa circondareale, si occupavano di reperire la droga e i telefonini. Uno in particolare, Michael Cusmano, 20 anni, l'unico finito ai domiciliari, si riforniva da Santoriolo, 39 anni, e Michael Sanfilippo, 21. La droga era confessionata in dosi da una donna, Rosaria Buda, 36 anni, che poi la custodiva prima di consegnarla a chi doveva portarla nella carcere, cioè il sovrintendente della penitenziaria. Tra le persone arrestate ci sono anche detenuti, almeno 7, che lo hanno acquistato in carcere per cedere la loro volta ad altri detenuti. Le indagini sono partite nel settembre dello scorso anno. Altro fatto grave si era verificato il 14 maggio dello scorso anno, quando agli arresti domiciliari fu rinchiuso un avvocato, 67enne di Avola, accusato di aver rifornito di Ascicci un detenuto ristretto al reparto alta sicurezza del carcere Cavadonna di Siracusa. L'indagine fu portata avanti dai finanzieri del comando provinciale dal Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria, con il coordinamento della Procura di Siracusa. Il GIP aveva disposto anche l'obbligo di soggiorno per la compagna trentenne del detenuto. Sotto inchiesta altre sei persone. L'indagine non avevano portato alla luce un generale contesto illecito, dicono gli inquirenti, nell'ambito del quale erano state accertate, reiterate e consegne di sostanze stupefacenti al detenuto, approfittando dei colloqui in carcere con il legale che consegnava per sua mano diversi quantitativi di droga. L'Ascicci, che veniva distribuita anche ad altri detenuti del reparto alta sicurezza del carcere, veniva procurata dai familiari del detenuto finiti sotto indagine. La droga veniva nascosta in vasetti di crema cosmetica, affidati poi al legale. L'inchiesta ha poi scoperto che il detenuto, nonostante fosse ristretto a regime di alta sicurezza, ha avuto la possibilità di utilizzare dei cellulari attraverso i quali periodicamente ordinava la droga ai propri familiari. Sei le consegne ricostruite dagli investigatori tra novembre 2019 e febbraio quest'anno, eseguite dall'avvocato in barba ai controlli. Nei mesi scorsi sono state esegite due sequesti di droga a carico del detenuto, deciso anche il trasferimento di cinque detenuti del reparto in altri istituti di pena.